Belen cambia idea su Giulia Delellis, le nuove dichiarazioni Belen Rodriguez cambia idea su Giulia Delellis, alla showgirl piace molto lex corteggiatrice. Belen Rodriguez ha cambiato idea su Giulia Delellis al grande fratello Vip. A rivelarlo è la stessa showgirl argentina attraverso un commento su Instagram. Una pagina fan dellex corteggiatrici di uomini e donne ha condiviso un vecchio screenshot riguardante una dichiarazione di Belen su Giulia. In particolare, la showgirl non aveva apprezzato un'affermazione fatta dalla Delellis. Durante un televoto, Giulia si era detta convinta del fatto che le sue bimbe già sapevano che dovevano salvare Veronica Angeloni, eliminando così Geremias Rodriguez. In quel caso lasciare il reality era toccato alla pallavolista. A suo rientro nella casa, Geremias aveva affermato a Giulia che le sue bambine non erano bastate a permettere la sua eliminazione. Tutta questa situazione non è piaciuta a Belen, che ha subito commentato negativamente il comportamento della Delellis. Ora il parere della Rodriguez sembra essere completamente cambiato. Infatti, Belen ammette che Giulia le piace, rivelando anche quali sono i lati del suo carattere che più l'hanno colpita. Belen Rodriguez dichiara esplicitamente di essersi ricreduta su Giulia Delellis. No no, non ve lo permetto. Fanno questa battuta delle bambine dall'inizio del grande fratello e sinceramente fa molto ridere. Ma è una battuta. È così che Belen commenta lo screenshot. Ed ecco che spiega cosa l'aveva portata a commentare negativamente Giulia. Devo dire la verità, all'inizio non la capivo. Mi sembrava un po' accelerata, ma mi sono espressa solo una volta perché ho sentito una battuta che non mi era piaciuta. Da sorella me la sono un po' presa. Ora la Rodriguez dichiara esplicitamente che le piace la Delellis. Con il passare delle settimane, lei mi è piaciuta. Mi piace la sua schiettezza, la sua spontaneità e il suo coraggio. Questa ragazza a me piace, vi piaccia o no? Tanti baci. Giulia Delellis colpisce ancora, oltre Belen anche altri personaggi si ricredono. Belen Rodriguez fa un passo indietro e dichiara di essersi ricreduta anche lei su Giulia. Sono, infatti, molte le persone che si sono potute ricredere attraverso questa esperienza. Un esempio è Carina Cacella, con cui la Delellis ha più volte discusso a pomeriggio 5. Giulia è stata eletta prima finalista due settimane fa e sembra sempre più possibile la sua vittoria. . .